Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale, io sono Amelia e quello di oggi è il video degli acquisti di aprile parlo di aprile ma in realtà ci saranno anche due cose che ho comprato a marzo perché ovviamente adesso che sono diventata vecchia e le spese sono di un certo tipo faccio in realtà acquisti ogni due mesi più o meno di fumetti quindi sarà in realtà marzo-aprile, ecco mannaggia, la vecchia io fa schifo rega tra l'altro la perla di saggezza di oggi nel momento in cui ok, comincerete a pensare meno male che hanno inventato lo shampoo secco ok, quello è uno dei segnali che siete diventati vecchi ok, bene iniziamo subito con la casa editrice per la quale ho acquistato meno roba che è la Dinit per cui ho preso il secondo volume di Runaway Girl vi avevo già detto forse in un altro video che ho letto il primo ed era un mmm perciò volevo provare il secondo per vedere se effettivamente poteva fare per me o meno questa serie devo dire che però i colori delle copertine sono veramente bellissimi cioè io che sono gazzaladra no? guardo queste copertine e dico vabbè devo proseguire la serie cioè anche se non dovesse piacermi me lo comprerò lo stesso perché sono troppo belle e quindi niente vedremo, questo non l'ho ancora letto purtroppo poi per la flashbook ho acquistato tre volumi in realtà di uno di questi avevo già parlato in un video precedente e sono il 2 e il 3 di Un tocco di blu quando ho fatto il video sulle letture nuove sui manga nuovi che ho iniziato eccetera eccetera avevo parlato di Un tocco di blu del quale avevo letto il primo ed il secondo e adesso che ho letto anche il terzo confermo che effettivamente è bruttino lo sto proseguendo soltanto perché è flashbook ma sono parecchio delusa parecchio parecchio mentre l'altro volume della flashbook che ho acquistato questo mese è il 9 di Given e che conclude la serie io come una besuga nel videocollezione avevo detto di averli tutti ma in realtà è una bugia cioè io ne avevo solo 8 e si concludeva al 9 mi sa come una cretina ho fatto la mia solita figura di merda che non so mai le robe ma del resto non sarei io no? bene proseguiamo e per la come cazzo si chiama questo? Jpop sorry per la Jpop ho acquistato il secondo volume della luna e l'acciaio di cui sono molto curiosa di cui sono molto curiosa? vabbè comunque sono molto curiosa di leggerlo perché il primo mi era piaciuto moltissimo mi aveva sorpresa assai poi il volume 5 di Skip and Loafer il volume 8 di A Crew God Brains e il terzo volume di Dracul come cazzo si legge? non lo so comunque sempre bellissimo per la star per la star allora ho preso il settimo volume di In The Clear Moonlit Dusk il volume 107 di One Piece e mi sono messa in pari mi sono messa in pari cioè io ero rimasta credo verso la fine di Wano e invece mi sono messa in pari li ho letti tutti bravo a me dopo anni mi sono rimessa in pari poi ho di recente acquistato anche il 2 e il 3 di Here You Are che purtroppo sono incartati quindi mamma mia la mia lotta alla plastica ok poi ho preso i volumi 2 e 3 della nuova edizione delle Mermaid Melody come vedete il 3 è più cicciotto del 2 ma in realtà mi hanno detto che nel volume 3 non ci sono tutte le storie extra che ci dovrebbero essere e che c'erano nella prima edizione ma è vero perché se no me l'avete fatto pagare 3 euro in più per cosa? vabbè e poi il 2 e il 3 anche di Aula alla Deriva sapete che il primo mi è piaciuto moltissimo ne ho parlato in un altro video e quindi non vedo l'ora di leggere anche questi poi a buffo a cazzo de can ho preso anche il 9 di A Sign of Affection e adesso mi direte ma non hai i primi 8 perché hai comprato il 9? ah allora praticamente su Twitter che non si chiama Twitter però vabbè avevo visto tipo delle clip non so perché ha deciso di mettermene sotto il naso delle clip dell'anime è possibile e ho detto ciao ma sto disegno mi sembra già conosciuto e infatti era su Morishita e ho detto vabbè dai però magari sto manga è carino vabbè insomma ho fatto talmente pietà alla Laura ciao Laura che praticamente me l'ha cercato su Vinted e mi ha comprato i primi 8 e quindi ho preso il 9 ma comment vero? eh lo so vabbè la mia vita è fatta così Santa Laura prega per noi poi andiamo avanti ho preso il 3 di Ennead che anche questo era incartato indovinate perché? bisogna fare un sondaggio indovinate perché? comunque cioè ve lo dico mi sta piacendo un botto cioè io lo so che cioè non è non è una di quelle robe innovative pazzo eccetera cioè anche il disegno è piuttosto grezzo però mi piace proprio non lo so trovo una lettura fresca quando vedo che c'è un nuovo volume sono contenta e non vedo l'ora di leggerlo e infatti l'ho scardato immediatamente cioè questo l'ho comprato due giorni fa e l'ho già letto non succede mai mai e tra l'altro sono curiosissima di leggere il prossimo mi piace un sacco poi ho preso il 29 di Blue Exorcist e vabbè c'era questa pubblicità che ho ignorato il 5 di Yomi no Tsugai poi il 6 e il 7 di Sakura Saku e qua si comincia cioè allora la mia polemica giornaliera con la Saki Saka la Saki Saka i primi 5 volumi delle sue opere li fa sempre fighi poi dal 6 questo in giù boh io non lo so che cacchio le succede vabbè comunque io fino al 5 diciamo che si era costruita una certa situazione per cui ero anche piuttosto contenta anzi ci trovavo quasi quasi dell'innovazione perché spoiler pareva che ci fosse un personaggio queer eccetera allora nel volume 6 e 7 questa cosa viene completamente dimenticata rimossa non esiste punto numero 1 punto numero 2 c'è la protagonista di una idiozia senza confini senza limiti quindi mi dà proprio c'è spoiler uno che ti si dichiara e tu gli rispondi tipo sì ma la tua vicina di casa è bella più di me non è che ti piace lei ma scusami ma se io ti sto dicendo che mi piaci tu ma pronto quindi tutte queste situazioni che si creano dalle incomprensioni dalle pippe mentali per cui poi andremo avanti fino al volume 9 dove non si risolve un caso che fastidio che fastidio la Sakisaka quando fasse robe vabbè poi il 29 di One Punch Man io non ho capito perché adesso hanno deciso che dal volume boh 20 19 non lo so fanno variant per ogni volume vabbè comunque andiamo avanti ho preso 14 15 16 di tracce di sangue anche di questo mi ero lamentata nel video collezione erroneamente perché mi ero dimenticata di comprare il 14 non lo trovavo più disponibile da nessuna parte mi era salita l'ansia ma probabilmente hanno fatto una ristampa non lo so fatto sta che avendolo inserito in casella a un certo punto mi è arrivato mi è arrivato e quindi in una fumetteria qua 10 km e quindi a un certo punto mi è arrivato il 14 quindi ce l'ho completa non mi rimarrà il buco come ho detto nel video collezione sono una falsa poi il volume oddio 9 di Keiaku questo mi piace sempre molto se avete la possibilità guardate anche la serie tv perché è molto carino fatto molto carino poi il 24 di Bungo Stray Dogs il 18 di arte si lo so che continuo a dire che quasi quasi droppo la serie però sto continuando a comprarlo non fate commenti è così poi 4 e 5 di Yawara questi due mattoni ho deciso che aspetterò che sia completa prima di leggerlo perché me lo devo gustare tutto insieme e una cosa che invece posso leggere perché finalmente è terminata è Yasha è uscito il sesto volume oh yeah poi si conclude questo video acquisti con un recupero piuttosto importante nel senso che sapete che dal video precedente se non sbaglio avevo parlato di Omunculus e sono andata avanti con il recupero della serie ovviamente ci sono alcuni buchi in mezzo perché mancano le ristampe però confido che un giorno le facciano e io possa completare questa serie con la mia fortuna si sa mai però vabbè facciamo che per ora ho più di metà della serie quindi dai e niente basta scusate questi video sporadici però purtroppo cioè io avrei anche due idee per fare dei video però purtroppo devo aspettare che ci siano le congiunzioni astrali per cui io sono qui riesco a fare dei video e vabbè anyway ce la faremo e niente fatemi sapere in un commento se seguite qualcuna delle serie che seguo io fatemi sapere cosa avete comprato voi fatemi sapere come state e niente io vi ricordo anche di iscrivervi al canale mettere mi piace tutte queste cose da influencer e basta niente ci vediamo al prossimo addio piacendo al prossimo video bye bye